Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a fare lo spacchettamento di brochet di album 1. Allora, io ho già aperto per controllare se fosse tutto a posto, perché sapete che ogni tanto mi capita la fortuna di trovare qualche prodotto rovesciato, questa volta è tutto intatto. Allora, qui sopra vedete subito il catalogo numero 2, che andrà in vigore dal 19 febbraio al 15 marzo, perché l'ho preso da sotto perché ero curiosissima di vederlo, e quindi l'ho già sfogliato. Qui troviamo i sacchettini che mi ha dato l'azienda, perché io appunto non li ho ordinati, con all'interno sempre le ricevute da fare alle clienti, e vediamo se c'è qualcos'altro dentro. No, dovrebbe esserci solo quel sacchettino qui di campioncini, che vediamo subito cosa c'è. Allora, troviamo il Profumo Common Evidence, il Mont Blanc, il Matin, sì, Mont Blanc, Matin Blanc, e poi le varie cremine, il Cœur de Nuit. Ok, tutti questi campioncini. Allora, partiamo subito a vedere cosa mi hanno ordinato le clienti. Allora, peschiamo a caso, c'è anche qualcosina che ho preso io. Allora, mi hanno ordinato ben tre oli sotto la doccia, questi qui all'argan e rosa. questi qua, me li ho ordinati tutti la stessa cliente. Questo è un formato da 200 ml, ed erano anche in offerta. Ma non vi dico i prezzi perché io non me li ricordo, quindi forse 3,95, boh, non vorrei dire una cavolata. Poi abbiamo un bagno doccia ai grani di caffè da 200 ml, questi una volta li mettevano nei volantini, che ogni tanto tira fuori i brochets, però adesso è in gamma permanente, perché è stato eliminato tipo il pompelmo, forse, se non erro, se nel caso sbaglio, correggetemi, però comunque un bagno doccia è stato tolto dalla gamma permanente, e hanno messo questo. Poi ne abbiamo uno invece nel formato da 400 ml, magnolia e tè bianco. Poi ne abbiamo uno sempre ai grani di caffè, ma nel formato da 400 ml. Le clienti me l'hanno preso per provarlo, perché nessuna delle mie clienti me l'aveva mai acquistato finora. Poi abbiamo un olio secco idratante multiuso, questo si può usare per il corpo, per i capelli, e questo è nel formato da 125 ml. Poi abbiamo un'acqua profumata corpo e capelli al mango e coriandolo. Poi troviamo, ci erano delle promozioni per quanto riguarda le cremine, queste qui, Pleasier Nature, da 30 ml, me l'hanno ordinata, una al cocco, una alla vaniglia. Poi abbiamo un'altra acqua profumata corpo e capelli al cocco. Poi abbiamo lo shampoo micellare detox, questo qui è anti-pollution, anti-inquinamento, buonissimo, lo sto utilizzando io ora, e me ne sono letteralmente innamorata, ma questo è per una cliente, con annesso balsamo, effetto scudo, e in più la cliente mi ha preso anche il gommage, questo qui è ossigenante, sempre appunto per i capelli della stessa linea anti-inquinamento, anche questo lo sto utilizzando io, e è buonissimo, è fantastico, io una volta ogni tanto lo vado a fare, ed è fenomenale, lascia i capelli puliti, il cuoio capelluto pulito, sgrassato, e nel frattempo va anche tanto a rinfrescare, è veramente buonissimo. Poi abbiamo altri bagno doccia, allora, fiori di cotone e mimosa, poi questo qui è fiori di loto e salvia, sì, mi sembra che quello che hanno tolto è pompa e il mojimo, questo qui è fiori di tiare e ylang ylang, che a me piace tantissimo, poi abbiamo uno shampoo della linea nutrizione, shampoo crema, e uno invece per i capelli della linea delicatezza appunto, ed è uno shampoo delicato, districante, poi mi hanno ordinato questo balsamo botanico universale, questo qui va a fare un effetto riparazione, con olio di jojoba bio, ed è indicato per capelli secchi, ho danneggiati la mia voce, mi sta abbandonando, è un ecotubo da 150 ml, ed è appunto un trattamento multiuso, senza risciacquo, si può usare sia di giorno che di notte, la cliente mi ha provato il campioncino che io le ho dato, e se ne è innamorata e l'ha voluto acquistare, anche se appunto non era in offerta, poi una cliente innamorata di questo, mi ha ordinato il bagno, lo shampoo doccia da 400 ml almonoi, poi abbiamo lo spray anti rottura per i capelli, questo qui è un siero fortificante, va a fare anche da termoprotettore, poi abbiamo un po' di sapone per le mani, perché anche questi, c'era un'offerta, ora non ricordo se sul catalogo o sui volantini, perché qui non si capisce più niente, ogni 2x3 escono fuori dei volantini, quindi io cerco di fare gli ordini in contemporanea, sia col volantino che con il catalogo, quindi forse questi erano sul volantino, come anche le cremine mani, però perdonatemi, non mi ricordo, allora ne abbiamo uno alla vaniglia, uno alla lavandina e mora, e poi ne abbiamo uno al tocco, e sono un formato da 190 ml, poi poi poi, qua abbiamo la crema anti-age global, la crema anti-età sublimante da giorno, e poi mi hanno preso appunto, due burri di karité, questi qui riparazione, 100% burro di karité, in questo sacchettino, abbiamo un'altra cremina a mani, olive petite grain, e poi c'è questo set, che ho acquistato io invece, che anche questo era sul volantino, che comprendeva appunto, il gel crema zero difetti, con polvere di tè boreale, indicata per pelle mista e grassa, della Sevo Vegetal, io non l'ho mai provata, adesso l'apro, perché tanto andrò ad utilizzarla subito, non l'ho mai provata, non so perché, però dovrebbe essere appunto, straindicata per la mia tipologia di pelle, vorrei sentire l'odore, buono, un odore molto bello freschissimo, sì, bello fresco l'odore, quindi inizierò a utilizzarlo da subito, in contemporanea, al siero riequilibrante, più antiossidante, questo è oil free, andiamo ad aprire anche lui, allora questo vorrevo capire anche come, utilizzarlo al meglio, allora, vediamo cosa dice, allora i nostri ricercatori, in cosmetica vegetale hanno selezionato la polvere di taboreale riequilibrante, che agisce in profondità per contenere l'effetto lucido, ottimo perché io mi lucido spesso, anzi sempre, neutralizzare le imperfezioni, e affinare la grana della pelle, quindi ciò che io voglio, applicare mattina e sera su tutto il viso, prima del trattamento abituale, evitare il contorno degli occhi, e non applicare sulla pelle irritata, ok, quindi si applica prima questo, poi passo, appunto, alla crema, poi vabbè, c'è il mio contorno occhi, eccetera, e non vedo l'ora di utilizzare anche questo prodottino, conveniva tantissimo prendere questo set, cioè la boccettina è carinissima, con il contagocce, ecco qua, wow, non vedo l'ora di utilizzare anche questo prodottino, poi ovviamente vi terrò aggiornate, e insieme, adesso non ricordo precisamente se tutto il set veniva, 16 euro, super giù, non mi ricordo, il guanto struccante, che è una vita che io lo voglio provare, eccolo qui, sembrava, a vederlo dal catalogo, sembrava più grande, eccolo qui, ed è morbidissimo, veramente morbido, morbido, e quindi niente, questo è un guanto struccante, che va a rimuovere appunto delicatamente, solo con acqua, il make up, quindi consiglio di utilizzo, inumidire il guanto con acqua tiepida, massaggiare delicatamente il viso, gli occhi e le labbra con il guanto, pulire il guanto dopo ogni utilizzo, con acqua calda e sapone, e lasciarlo asciugare, riutilizzabile fino a tre mesi, ottimo, ottimo, non vedo l'ora di provare anche lui, poi, qui troviamo un altro sacchettino, fantastico, mi hanno messo questo set di campioncini, ma che belli questi campioncini, guardate, questo qui è il nuovo concentrato bifasico, nuovo sì, concentrato bifasico, recuperatore di notte, vabbè, io ho tentato di tradurlo, ma in pratica sarebbe appunto questo qui, che troveremo come novità sull'album 02, e quindi mi hanno dato questo campioncino, è un concentrato bifasico, concentrato bifasico rigenerante da notte, ok, mi hanno messo cinque campioncini, ottimo, così almeno li farò provare, soprattutto anche la cliente che mi ha acquistato proprio in questo catalogo, la crema anti-age global, e nulla, poi lì c'è la mia fattura, e qui ci sono appunto tutti tutti i miei album, eccoli qua, e abbiamo terminato, nulla, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando, mettete un like, e se avete voglia anche lasciate un commentino, io vi mando un grosso bacione, e ci vediamo al prossimo video, ciao! A presto!